Siamo alla fine, insomma, tanti incontri, tanti confronti, tante persone. Alla fine qual è il bilancio di questa campagna e le aspettative? Beh, è una campagna eccezionale, ricca di incontri, entusiasmante, stimolante, soprattutto ricca anche di molti spunti che noi ovviamente trasformeremo in progetto di governo. Non siamo alla fine ma siamo all'inizio. E le aspettative? Beh, le aspettative di Veneti sono altissime e le aspettative del sottoscritto ancora di più, visto e considerato che dobbiamo far tanto e soprattutto dobbiamo cambiare questo Veneto. In questa campagna elettorale è stato attaccato anche sulla sicurezza dalla sua principale sfidante, Alessandra Moretti, dicendo che aveva tagliato i fondi.